La nuova base americana di Nago si farà, a decretarlo la vittoria alle comunali nella cittadina giapponese sull'isola di Okinawa del candidato indipendente Taketoyo Toguchi, sostenuto dal governo conservatore di Shinzo Abe. Sconfitto, il sindaco uscente Susumu Inaminè, contrario al trasloco nel suo distretto meno popoloso dell'importante base di Futemna, a nord della capitale Naha. Il premier si è affrettato a esprimere soddisfazione per l'esito di queste elezioni locali, che sono diventate di portata nazionale. Grazie al consenso ricevuto dalla popolazione, ha affermato, andremo avanti con il piano di trasferimento in base a quanto stabilito nel 2016 dalla Corte Suprema. Nella sentenza di terzo grado, i giudici hanno dichiarato illegale la revoca da parte del governatore dell'isola, Takeshi Onaga, altro fiero oppositore della presenza americana, del permesso di costruzione della base. A Okinawa si trova più della metà dei marines di stanza in Giappone. La loro presenza ha scatenato le proteste degli abitanti per i pericoli di incidenti durante le esercitazioni, i numerosi casi di violenze sessuali da parte dei militari e l'impatto ambientale della base.